Siamo con il Presidente della CIA Chieti Pescara, Bomba Domingo. In base alle segnalazioni dei suoi iscritti, com'è la situazione? La situazione al momento è grave, purtroppo dobbiamo dire che è molto grave. Abbiamo sul territorio, il Chietino è quello dove la maggior produzione vitivinicola, al momento siamo già oltre il 50% di segnalazioni di danni. Per il Chietino intendiamo la fascia costiera interna? Intendiamo la provincia di Chieti, nella sua interezza, che con le sue 32 cooperative, comunque tanti privati, produce la maggior parte del vino in Abruzzo. Poi ci sono realtà importanti anche nel Pescarese, Terramano, L'Aquilano, ma diciamo che il grosso è la produzione in provincia di Chieti. E qui purtroppo riscontriamo danni molto molto gravi, che purtroppo porteranno gravi danni sia alle aziende agricole, ma soprattutto alle cooperative e anche alle cantine sociali. Come associazione di categoria, qual è la richiesta che le ritiene più urgente in questo periodo? Allora, noi come associazione di categoria abbiamo fatto già la richiesta 21 giorni fa, perché da quello che stavamo vedendo, essendo noi prima che dirigenti sindacali, ma abbiamo le aziende agricole, avevamo visto che la situazione purtroppo era anomala, ma soprattutto con quelle piogge incessanti si stava rischiando. In effetti abbiamo richiesto subito lo stato di calamità naturale per le abbondanti piogge. Quindi la richiesta è stata già avanzata, sappiamo che la Regione l'ha avanzata anche al Ministero, quindi questa è stata la prima richiesta. Dopodiché abbiamo con una lettera alla Regione abbiamo richiesto un fondo rotativo per le aziende agricole in maniera di assorbire il danno, non in una sola annata, ma con tre annualità, con gli interessi a carico della Fira, quindi la Regione Abruzzo. Nel pratico questo fondo rotativo come potrebbero accedervi gli agricoltori? Facendo praticamente la differenza fra il PIL 2022, quindi denunce di produzione 2022 e denunce di produzione 2023 e il danno che si è venuto a percepire. Da quello bisogna poi arrivare ad avere un prestito, perché sarà un prestito, quindi non un contributo a fondo perduto, ma un prestito, con però gli interessi a carico della Regione. Bene, quindi questa è la prima richiesta, adesso seguirete lo sviluppo della pratica. Sì, domani ci sarà un tavolo verde convocato in Regione Abruzzo e questo sarà uno degli argomenti principali, perché così deve essere. In questo tavolo verde vedremo anche se è possibile attivare un bando che è quello della vendemmia verde, dove si sono avuti i danni che superano il 70-80%, dobbiamo vedere se anche quella può essere una strada percorribile. Quindi stiamo cercando tutti i modi per cercare di attenuare al massimo questo danno che purtroppo si è avuto e che è un danno reale. Consideriamo poi che siamo solo al 10-11 giugno, dobbiamo arrivare alla vendemmia, non è cosa semplice. Quindi i danni potrebbero essere anche superiori alle attuali stime? Sì, perché il periodo di incubazione della peronospora è abbastanza lungo, varia tra i 15-20 giorni e con queste piogge frequenti le spore si riattivano in continuazione. Quindi potrebbe anche, ci sono state già due ondate più o meno, dicono gli esperti, gli agronomi, ma non è detto perché la peronospora, chi è del settore sa anche che esiste la peronospora larvata che attacca poi i chicchi d'uva quando sono già grandi. Quindi è una situazione, è un'annata veramente che a memoria d'uomo non si ricorda. Quindi speriamo bene, da dimenticare soprattutto. Grazie. Grazie.